Benvenuta in questo nuovo video Ibroche, come avete letto il titolo, sarà un video Ibroche speciale perché vi farò vedere le anteprime di Natale, ragazze, stra bellissime, cioè sono felice come una bimba, si può dire? Sì, stra 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 felice, per noi di Ibroche è già Natale, Natale è arrivato anticipato, ma va benissimo, inizio subito. Questi sono i due pacchi, questo sotto è vuoto perché c'erano tutte le anteprime di Natale che io già ho sistemato lì, ma non mi svelo niente, vi faccio vedere tutto dopo nel dettaglio. Questo invece è la scatola dove ci sono alcuni prodottini che mi hanno ordinato i miei clienti. Mi sbrigo perché questo video durerà tantissimo, quindi mettetevi comode, prendetevi una tazza di tè, prendetevi una cioccolata calda, prendetevi quello che vi pare. Ma questo video sarà lunghissimo, ma inizio subito. Allora, questo è l'ordine dell'album 12, che scadrà il primo ottobre, quindi sicuramente farò qualche altro ordine. Ci sono giusto qualcosina, qualche prodotto, cioè pochi prodotti per clienti, ma il resto ho preso le anteprime di Natale per lavorare poi nel periodo natalizio. Ma inizio subito. Allora, qua già ho aperto perché vi ho detto che ho sistemato tutto, altrimenti sarebbe stato impossibile farvi vedere le anteprime, visto che sono un botto di roba. Qui abbiamo dei cataloghi, album 12, album 12. Poi abbiamo album 13, eccole qua. Tutti gli altri cataloghi di album 13. E la cosa stupenda è il catalogo di Natale. Bellissimo. Questo qua sarà valido dal 2 ottobre al 27 dicembre. Quindi ragazzi, questo qua poi magari più in là, proprio inizio ottobre, se volete vi faccio, no, se volete ve lo faccio, il video dove vi farò vedere tutti i prodotti che sono in catalogo. Ma comunque voi, sempre in questo video, vedrete le anteprime appunto di Natale dal vivo. Ok, alcuni prodotti delle clienti sono questo 3 in 1 detergente, detergente scrub e antipunti neri della linea nuova Sebo Vegetal Pur. Poi, questo trattamento idratante, sempre per il viso, Sebo Vegetal Pur 4 in 1, acido salicidico. E sempre la stessa cliente mi ha ordinato questo, l'SOS Anti Imperfezioni. Questa qua sempre appunto della linea nuova, bellissima Sebo Pur Vegetal. Poi, altri due clienti mi hanno ordinato due cremine mani, questa qua al fior di loto, molto profumata, e questa qui all'argan e rosa. Poi per me invece ho preso questo contorno occhi della linea Elexir Janesse, anti-inquinamento, roll-on anti-fatica, defatificante. E visto che sto utilizzando la crema da giorno, mi andava di provare anche questo contorno occhi, perché ragazzi io provo i prodotti, quindi non vendo perché... Cioè, non vendo perché, perché ok, vendo giusto perché, no. Vendo anche, in base alla mia esperienza, testo i prodotti, quindi mi interessa testare i prodotti e poi consigliare alla cliente. Non consiglio mai, solitamente, prodotti che non ho utilizzato. E quindi li testo sempre e poi consiglio, appunto, per una vendita ottimale. E poi sono contenta che ci tengo, che le mie clienti rimangono soddisfatte e si tornano bene anche loro. Andiamo avanti. Poi qui, in questa busta bianca, vabbè, qui c'è la fattura. In questa busta bianca ci sono dei sacchettini, appunto, per le consegne. Non ve li faccio vedere perché sarò un disastro. Poi qui ci sono altri sacchetti che mi ha regalato l'azienda, con le ricevute dentro per le clienti. Ed, in più, ho preso alcuni campioncini dei profumi nuovi. Questo, questi altri campioncini sempre dei profumi nuovi. Eccoli qua. Vabbè, ragazzi, stupendo. Poi ho preso dei campioncini di creme della linea Serium Vegetal, che saranno disponibili a partire dall'album 13. Quindi li testerò prima. E poi, qui altri campioncini, però, questi qua, nelle mini sites, sempre che ne uso, appunto, da provare. E che saranno alcuni, sì, mi sembra così qua, della linea Serium Vegetal, questa con la scritta rossa, in novità nell'album 13, appunto. E poi, mi sono state regalate dall'azienda questi tester per far provare i profumi, appunto, alle clienti. E qui, altri campioncini della nuova linea Profumi, appunto, da regalare, come regalino, alle clienti. E poi, ragazzi, basta, di questi prodotti qua non c'è più niente. Quindi, metto a posto i prodotti delle clienti, che tra poco andrò a consegnare. Poi, poi, ritorno e vi filmerò, appunto, le anteprime, ma metterò tutto in questo video. Quindi farò un unico video, non vi preoccupate. E adesso, consegno, ritorno e vi filmo le anteprime. Ciao ragazze, partiamo subito con le anteprime di Natale. Ecco qui, vi sto facendo un bel panorama, così, in modo da farvi dire tutto. Ma adesso vi mostrerò tutto nello specifico, perché è veramente tanta, tanta roba. Ed è tutto stupendo, che ve lo dico fare. Ed eccomi qui, ragazze. Ricciao a tutte. Allora, inizio subitissimo, perché, come già vi ho detto, sono tanti, 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 tanti prodotti che vi voglio mostrare. E' già Natale, ragazze. Sì, è già Natale. Ma iniziamo subito con la prima cosa, che non fa parte del set natalizio, ma è un set che ho acquistato io sul tradino e riservato alle consigliere. Ed eccolo qua. E' questo sacchettino, che io ci ho messo già i miei prodotti dentro, perché l'avevo già appoggiato nel mio bagno. Comunque è questo sacchettino qua, molto molto carino. Dove dentro ci sta un'asciugamano piccolina con il logo Yves Rocher, una spugna, una spugna da bagno. Ed in più... Ok, mi è caduta. Ok. Ce la farò mai? Chissà. Ed in più una fascettina per i capelli, ragazze. E dentro io ho messo i prodotti, appunto, che utilizzo tutti i giorni. Quindi lo metterò in bagno sul lavandino, così da tenere tutto bello a portata di mano. E comunque ordinato. Ok. Inizio con i set natalizi. Allora, il primo set che vi voglio far vedere è questo. Ed è praticamente questa bellissima pochettina trasparente che è veramente stra stra bella. E dentro troviamo il mascara volume vertige. Poi troviamo uno struccante bifasico, questo qui, nella versione 100 ml. E poi troviamo una matita per occhi, questa qui, nella colorazione noir. 01 noir. E questo qua è il primo set molto molto carino, appunto, da regalare a Natale. Poi, altro set sempre in questa pochettina uguale all'altra, molto molto bellina, che poi comunque è una pochettina che vi rimane, in cui potete mettere un sacco di cose dentro, perché anche se sembra piccola, ma ci va un bel po' di roba. Comunque, in questo set troviamo l'illuminante bellissimo, veramente molto molto bello questo illuminante. E da, vediamo un po' quanti grammi, da 6 grammi, ma è veramente bellissimo. Ed in più dentro troviamo anche il pennellino per stendere, appunto, questo illuminante piccolino da viaggio. Cioè, potete mettere pure in borsette, quindi è molto molto comodo. Ah, quindi qua abbiamo l'illuminante e il pennellino. Poi, andiamo avanti. Altro set composto da due prodotti per le mani nuovi, che usciranno in album 13, ovvero questa crema a mani sublimatrice. E questo olio mani è spogliante. Ragazzi, secondo me questi due prodotti sono stra-stra bellissimi, sono straordinari. E quindi, questo set è composto da questi due prodotti mani, in più questa base rinforzante per unghie. e poi è composto da questo set per la manicure. Io ve lo apro perché ve lo posso far vedere. Eccolo qua. Vediamo un po', non ho ancora aperto, quindi non so. Ecco qua. Vedete? Allora, vi faccio vedere tutto nel dettaglio, se ce la posso fare. Ecco qua. Trovate una lima, uno spingicuticole, un'altra lima, quindi due lime, uno spingicuticole, una forbicina e un taglio-onghie. Quindi è molto veramente bello da portare con sé, da portare in viaggio. È molto molto pratico. Quindi ci sono delle cose essenziali che comunque sono prodotti cose che servono. Quindi è molto molto bello. Poi, andiamo avanti. Poi c'è questo set con questa palla appunto natalizia, molto 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 bella. E vi faccio vedere dentro cosa troviamo, se lo riesco ad aprire. Ce la farò mai? Sì. Allora, all'interno troviamo lo smaltino, questo qua rosso, vi dico il numero 42. Poi, altro smaltino, sempre nel russo Bordeaux. E questo qua è il numero 106. E poi troviamo una base rinforzante unghie. E poi troviamo una crema a mani al cocco. Quindi ragazzi, è anche questo un set molto molto interessante, con dei prodotti validi e facciamo bella figura comunque a regalare questo set. Anche perché è molto molto proprio carino da presentare. E quindi, ecco qua. È proprio bellino. Quindi, ottima scelta di regalo. Poi abbiamo questa candela. Questa qua nella profumazione alberi incantati. Ve la faccio vedere. Eccola qua. Che emana un profumo veramente bellissimo. E questi sono proprio i profumi natalizi. Quindi, spettacolo. Per me già è Natale. Sento già aria di Natale. Mi devo passare la piastra. Infatti, mi sono fatta la treccia. Perché ho dei capelli proprio bruttissimi. Poi, un altro set. Eccolo qua. Questo qua è composto da un esfoliante viso in edizione limitata. Una maschera viso luminosità. E una maschera purificante. E questo qua anche è un bel set carino. Poi, altro set. Eccolo qua. Fatto con questo sacchettino di cotone. Molto, molto bello. Dove troviamo un profumo. Che è questo qui, nuovo. Eccolo qua. Alla profumazione Mouguet. Penso si legga così. Eccolo qua. E poi, più insieme, troviamo anche un gel doccia da 200 ml. Nella stessa profumazione. Della stessa linea. Questo qua è quest'altro set. Molto, molto bellino. Con questo sacchettino, appunto, sempre natalizio. Super, super bello. Poi, altro set. Dove sta? Che vi voglio far vedere. Eccolo qua. Bellissimo, ragazzi. Questa è la nuova linea Sebo Vegetal Pur. Che è uscito, appunto, nell'album 12. Allora, ragazze. Io la maschera al carbone la volevo provare. Quindi, penso di tenere questo set per me. Ma, vi faccio vedere. Allora. Gel detergente. Questo qua è 3 in 1. Stupendo. Questo qua già l'ho provato. E poi, la maschera al carbone nera. Questa la proverò e vi farò sapere. Ed in più, in questo set, troviamo anche la spugna, sempre al carbone nero, per pelli impure. Questa qui anche io la tengo, la utilizzo tutti i giorni. Ed è veramente bellissima, ragazze. Veramente, veramente, molto, molto bella. Quindi, se ancora non l'avete provata, provatela. Se avete pelli impure, però, la fanno anche per pelle sensibile e per pelle normale. Quindi, in base alle vostre esigenze. Ma questa nera, per pelli impure, è veramente bellissima. Se la utilizzate, anche senza detergenti, vi fa un live, una live esfolazione molto, molto delicata. Quindi, ve la consiglio. Poi, dopodiché, abbiamo un altro set in quest'altra pochette. Vi faccio vedere subito. All'interno questa contiene, vediamo un poco, non mi ricordo. Ah, sì, contiene la BB Cream. Questa BB Cream, nella colorazione medium, che io ho anche su adesso, ed è bellissima. Cioè, veramente, io la utilizzo tutti i giorni per andare al lavoro. E mi ci trovo bene, veramente ottima. Ed, in più, abbiamo, insieme alla BB Cream, il gel detergente viso della Purcamilla, appunto, alla camomilla. Il flacone da 200 ml. Anche questa qui è molto, molto buona. Se avete pelle sensibile, se avete una pelle che è, comunque, abbastanza delicata, questo gel detergente è ottimo. Quindi, ve lo consiglio. E comunque, ragazze, questo qui è un set con questa pochettina che, comunque, è riutilizzabile. Quindi, non riesco a chiudere il bottone. Ce la potrò mai fare. Questo video sarà un disastro, va bene. Eccolo qua. Cioè, è molto, molto bella questa pochette. Ci vanno tante cose dentro, perché è abbastanza grande, non è piccolissima. Poi, un altro set che ho qua, è questo qui, che è una pochette simile a quella di prima, però è un po' più piccina. Ed è, appunto, rossa. Eccola qua. Vi faccio vedere, qua dentro, ci sono, invece, dei mini profumi. Vi faccio vedere tutti. Allora, c'è, eccoli qua, l'Evidence, il famoso Evidence. C'è il Qui, qui l'Amor. Eccolo qua. Poi abbiamo il Mon Evidence. E poi abbiamo il Quelet Not d'Amor. Scusate il mio francese storpiato, ma non ho studiato il francese, quindi non lo conosco. Non lo so pronunciare. E quindi, questa qui, è un'altra pochettina molto, molto bellina, con questi mini profumi, che sono veramente bellissimi. E un altro regalo straordinario. Diciamo che questa azienda, veramente, per questo Natale, ha fatto dei prodotti veramente stupendi. Cioè, ha fatto proprio delle condizioni proprio belle. Cioè, proprio che io me ne sono innamorata. E quando ho aperto il pacco, ho detto, wow! Cioè, è proprio felice come la bimba. Ok, andiamo avanti. Tanto per darmi chiacchiere, un cestino mega gigante, con tanta, tanta, tanta roba. Eccolo qua. Nella profumazione Alberi Incantati. Ragazzi, questo qua è bellissimo. C'è ancora la carta intorno al cestino, ma è di... Vedete? È di legno. Vi faccio vedere tutto, giusto per farvi capire cosa contiene questo set. Allora, contiene un latte corpo da 200 ml, poi contiene un gel detergente mani da 190 ml, poi abbiamo una mini crema mani da 30 ml, poi abbiamo un gel per 80 ml, poi abbiamo una mini crema mani da 400 ml, poi abbiamo un gel doccia da 400 ml, poi abbiamo la saponetta da 150 grammi, la bomba per la doccia appunto per la vasca si per la doccia e poi abbiamo la candela cosa qui è quella che già vi ho fatto vedere prima quindi questo qua è un set veramente molto ah no l'ultima cosa che non vi ho fatto vedere eccola qua è praticamente questa spugna esfoliante da utilizzare sotto la doccia molto molto carina quindi ragazze come stavo dicendo questo qui è un set veramente molto molto completo ricco ricco di cose ed è veramente bellissimo da regalare poi un altro set però questo è nella profumazione fiocchi di neve eccolo qua appunto con il logo rosso e con questo contenitore sotto che è veramente molto molto bello mi piace tantissimo qui troviamo questo no perché è un'altra cosa lo avevo messo insieme qui troviamo un latte corpo da 200 ml un gel doccia da 200 ml un gel avanti mani da 190 ml poi abbiamo una crema mani eccola qua da 75 ml e un mini gel doccia da 50 ml eccolo qua e anche questo molto 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 carino mi piace veramente tanto cioè questi prodotti sono stra bellissimi un altro mini set eccolo qua sempre fiocchi di neve contiene se non erro una crema mani sì eccola qua appunto come quella di prima crema mani e un balsamo labbra eccolo qua un balsamo labbra quindi ragazze questi set sono bellissimi io veramente sono impazzita belli belli poi un altro set sempre per fiocchi di neve fiocchi di neve contenente cioè tutti i prodotti sono contenuti in questa in questo contenitore vedete stra bellissimo anche questo vi li faccio vedere allora questo è un altro set che contiene sempre un gel sì un gel una crema mani la spugna sempre uguale all'altra esfoliante una bomba da vasca un gel lavante mani un gel doccia questo da grande da 400 ml e un latte corpo profumato e un mini gel doccia da 50 ml quindi ragazzi questo qui è anche un altro set bello bello completo e quindi anche questo mi piace tantissimo anche perché questo contenitore eppure è molto molto bello anche esteticamente ok andiamo avanti perché cose non sono ancora terminate abbiamo un sacchettino eccolo qua con due prodotti in viso della linea idra vegetal ovvero acqua micelare e tonico e anche questo qua è è un bel set appunto da regalare questo mi ricordo del prezzo di questo mi pare 9,95 euro quindi scusatemi si era scaricato il telefono quindi per 9,95 euro questo qua è un ottimo regalo anche perché questi prodotti sono buonissimi tutti i prodotti grossi sono eccezionali quindi i prezzi sono veramente buoni poi un altro set abbiamo questo qui contenuto in questo cartoncino non ve lo apro perché è sigillato però all'interno troviamo una crema a mani al carité un ultra nutriente ve lo leggo forse è meglio allora troviamo un latte nutriente intenso burro di carité poi troviamo un balsamo labbra al carité e poi troviamo un balsamo concentrato antifreddo arricchito con carité quindi questi qua sono i tre prodotti e anche questo è un ottimo set poi un altro set molto molto carino che anche mi piace tantissimo è questo qui dove troviamo questa palla di neve che è stra bellissima è un portachiave e poi troviamo un gel dodge eccolo qua da 400 ml alla mandorla e fior d'arancio e della stessa profumazione della stessa lina troviamo anche la saponetta cioè che fa un profumo spettacolare si sente proprio da fuori ed ecco qui quest'altro set poi ragazzi un altro set ancora che abbiamo eccolo qua contenuto in questa baligetta molto molto bella c'è bellissima troviamo altri tre prodottini e troviamo gel doccia questo qui alla vaniglia da 200 ml poi troviamo un'acqua profumata corpo e capelli sempre alla vaniglia no per capelli scusate mi pare che era pure per capelli ho detto una sciocchezza acqua profumata alla vaniglia corpo e capelli si non avevo detto nessuna sciocchezza mi ricordavo che era corpo e capelli comunque sempre alla vaniglia e un balsamo labbra sempre alla vaniglia e anche questo un altro set super super bello cioè adoro tutto quante volte ho detto che adoro tutto non lo so poi altri due set ultimi due set li tengo qua appoggiati ed è questo questo set qua contenuto in questa borsettina di cartone anche questa riutilizzabile vi faccio vedere subito dentro cosa contiene questo set allora troviamo lo shampoo da 300 ml della linea anti inquinamento per tutti i tipi di capelli poi troviamo il balsamo sempre anti inquinamento da 200 ml e poi troviamo questo esfoliante per cui ho capelluto sempre della linea anti inquinamento quindi ragazzi questo qui è questo set composto da questi tre prodotti appunto della linea anti inquinamento balsamo shampoo e gommage gommage esfoliante per il cui ho capelluto anche questo un ottimo set poi ultimo set che vi faccio vedere eccolo qua sempre della linea della profumazione alberi incantati si trova in questa borsettina e abbiamo in questo set allora bagno doccia da 200 ml gel doccia lavante per mani eccolo qua da 190 ml e abbiamo poi una crema mani da 30 ml eccolo qua quindi ragazzi questo qui è l'ultimo set natalizio quindi questo questi sono i set da natalizi che ho acquistato io poi mi sembra che ci sono altri 5-6 set ancora che contengono profumi però quelli non li ho presi ho voluto prendere questi qua e niente ragazzi quindi questo qua è tutto ora rimetto tutto a posto perché ho un macello niente spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere giù con un commentino fatemi sapere se a natale acquisterete questi set natalizi appunto della Yves Rocher e niente raga io vi aspetto in tantissimi giù nei commenti lasciate un like se questo video vi è piaciuto e se ancora non siete iscritti iscrivetevi al mio canale un bacio e a presto ciao